i suoi exit poll, sugli exit poll già sapete come la pensiamo, però vedete qui sostanzialmente vediamo insieme come secondo questi exit poll la Tesei, la candidata, senatrice attualmente della Lega, la candidata del centrodestra è avantissimo, potrebbe arrivare addirittura oltre il 60% e al massimo, secondo questo exit poll, il candidato comune del centrosinistra e del Movimento 5 Stelle, Bianconi al massimo potrebbe sfiorare il 40%, si parlerà di vittoria a valanga del centrodestra e non saprei trovare francamente una definizione altrettanto adatta o più adatta e si parlerà di severa sconfitta per il centrosinistra e il Movimento 5 Stelle nella loro prima prova di acqua.